Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia celebrativa dell'Octoberfest per il Bayern Monaco della stagione in corso. Questa è in edizione player, l'edizione player è quella più tecnica pensata per i calciatori. Alla prossima! La maglia è molto bella, si ispira all'altra maglia del Bayern Monaco, trovate qui in alto la recensione, in colore verde. È una versione player, ma devo dire che secondo me c'è stato un piccolo errore, è un po' troppo grande. Di solito sono più sfiancate, però veramente molto bella e fatta bene. Se volete maggiori dettagli, trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Vi ricordo che sempre in descrizione c'è anche un link per ottenere un coupon, col quale potete avere uno sconto sul sito e quindi il prezzo di prima diventa ancora più vantaggioso. Se volete recensioni come questa tutti i giorni, l'unica cosa che dovete fare, semplicissima, è iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie! Grazie!